Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo l'aggiornamento del firmware del fret controller Omnibus F4 V2 Innanzitutto dobbiamo scaricare e installare i driver CP210 e STM USB VCP Scarichiamo anche il software Zadig Dopo aver installato i driver che abbiamo scaricato, colleghiamo il fret controller a PC In questa fase è indispensabile collegare il fret controller tenendo premuto il tasto boot Una volta che abbiamo collegato il fret controller possiamo anche rilasciare il tasto boot Adesso eseguiamo il programma Zadig come amministratore Andiamo su opzioni e spuntiamo il list al device Adesso in questo menu a tendina scegliamo STM32 bootloader Quindi clicchiamo su replace driver Adesso possiamo anche chiudere Una volta avviato Betaflight, ricolleghiamo il nostro flight controller ricordandoci di collegarlo tenendo premuto il tasto boot Come vedete, adesso siamo entrati in the field mode e possiamo procedere al flash del firmware Clicchiamo su firmware flasher E assicuriamoci che qui sia selezionato Omnibus F4 SD SD sta a indicare che il nostro flight controller ha lo slot per la micro SD Adesso scegliamo la versione del firmware Attualmente l'ultima release è la 3.1.7 In ogni caso assicuriamoci di installare sempre l'ultima versione disponibile Prima di iniziare il flash assicuriamoci che non reboot sequence, full chip erase e manual raid siano tutti disattivati Quindi clicchiamo su load firmware Una volta scaricato possiamo procedere al flash cliccando flash firmware Grazie a tutti Una volta completata quest'operazione il flash del firmware è stato eseguito correttamente Possiamo andare quindi su connetti Come vedete muovendo il flight controller si muove a schermo il nostro modello Una volta che abbiamo fatto il flash dovremo procedere alla configurazione tenendo conto di tutti i nostri componenti Questo era il mio tutorial su come eseguire il flash del firmware del flight controller Omnibus F4 V2 Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale Grazie a tutti Grazie a tutti